Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIODER e oggi ragazzi fortbite numero 40 accessibile utilizzando la skin Demi, quella che vedete in questo momento, vicino al bioma del deserto. Dobbiamo andare ragazzi esattamente in questo punto e come avete già capito siamo alla meridiana ragazzi, quindi eccoci qua tra lande letali e palmetto paradisiaco nella montagna della meridiana. Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi siamo in live! Ciao!